Da novembre 2011... Fra l'opposizione, l'intervento del professor Monti al Senato è forse il più duro, seppur pacato nei toni. L'ex premier rivendica l'operato del proprio governo che ha consentito all'Italia di uscire da una spaventosa crisi e mette in guardia l'attuale esecutivo dal rischio evitato nel 2011, ossia l'intervento dell'Europa per risanare la situazione economica del nostro paese. Non è escluso che l'Italia possa dover subire ciò che ha evitato allora, cioè l'umiliazione della Troica. Il leader di Identità e Azione, Gaetano Quaglia-Riello, iscritto al gruppo di Forza Italia, usa invece il bastone e la carota, annuncia di votare contro la fiducia, assicura che non avrà un atteggiamento pregiudiziale, ma contrasta l'idea di democrazia diretta del governo nascente. Senza pregiudizi solo l'interesse del popolo italiano, la posizione della senatrice a vita Liliana Segre, il cui intervento il primo Palazzo Madama è seguito da una standing ovation. Anche aiutare gli italiani di oggi a respingere la tentazione dell'indifferenza verso le ingiustizie e le sofferenze che ci circondano. Grasso di Leus posta l'attenzione sui diritti civili, contrastando le dichiarazioni del ministro Fontana sulle famiglie Arcobaleno e del ministro Salvini sull'immigrazione. La russa di Fratelli d'Italia si lamenta del fatto che Conte, nel suo discorso, non abbia mai usato le parole nazione e patria. Infine, l'intervento più atteso della giornata, Matteo Renzi snocciola i motivi per cui il PD dice no alla fiducia, flat tax, reddito di cittadinanza, opinioni contrastanti sui diritti civili d'Europa, ma non solo. Ma entrambi utilizzate tecniche di aggressione verbale, in particolar modo sui social network, che mi lasciano perplessi. Vicepresidente Salvini, le chiedo questo. Da padre a padre, lei ha utilizzato un'espressione bella su questo. Stia attento alle parole. Perché lei non è più il leader politico soltanto. Lei, vicepresidente del Consiglio, rappresenta oggi un paese. Non possiamo permetterci di animare questioni di crisi diplomatica con la Tunisia quando la Tunisia ha bisogno di un'Italia forte nel Mediterraneo. Non possiamo permetterci di animare polemiche e di creare un clima incendario. Ci dia una mano.